Buonasera Shure, buonasera Shure, svuota la spesa, sempre del fammila. Vediamo cosa ha comprato. Il solito succo di frutta che piace tanto, pochi zuccheri, sembra acqua colorata, cioè sembra acqua appena appena aromatizzata. Poi carciofi alla romana penso, che sono buonissimi. Le fragole, poi sofficini al formaggio, budino cioccolato, cipolline brillate. Queste sono le cipolline, yogurt a tiglia con cereali. Cormalle, questo sono mio marito e mio figlio, yogurt zero per me. Altre caramelle, poi melone giallo, che io amo. Altro yogurt. Questo è un set per profumare i cassetti e gli armadi. Alla lavanda, io amo la lavanda. Poi uova, uova, yogurt greco della Muller, la nocciola, questo è per mio marito. Tonno per me. Comunque, questi costano di più rispetto alle scatolette, ma è un'altra roba, altra qualità. E non sono così asciutto, cioè non è così asciutto come la scatoletta. Mi piace un sacco a me. Ah, qua mio marito si è lasciato andare. Ha comprato la mirringata. E sì. Gliene frega il cavolo che io sono a dieta. Cioè a dieta. Insomma, se voglio eliminare il grasso, non si deve mangiare quella roba lì. E quindi dieta in quel senso. Poi sofficini, questi qui sono alla crema di patate e salsiccia. Poi strudel. Si vede che la borsa l'ha fatta mio marito, è tutto mischiato. Io non l'avrei fatta sicuramente così. Succo di frutta Schipper. Anche questo senza zuccheri. Poi, cordon bleu. Che mio figlio li ama. L'uva periodi. Adesso è il periodo del cordon bleu del suofficino. Poi, questo invece lo amo a mio marito. Ogni tanto si fa la pasta allo scoglio, diciamo. Diciamo così, dai. Anche se io non amo questi preparati, eh. Infatti io non li mangio. E ne ho presi due perché uno è un po' pochino. Ho finito questa borsa. Adesso prendo. Abbiamo l'ultima borsa. Vedete? Il fang. Poi ci sono queste pizze. Perché sapete che le prendo sempre per mio figlio e i suoi amici. Perché quando vengono qua, delle volte fanno merenda con la pizza. Perché vogliono mangiare solo pizza. Non so perché. Quindi pizza regina. C'è dentro due pizze. E pizza buitoni. Sempre margherita. E sempre all'interno contiene due pizze. Allora, spostiamole. Dopo le mettiamo via. Poi, ammorbidente. Fabuloso. Si vede che non ha trovato il mio. Ma proviamolo. Questo qui. Che cos'è come profumazione? Fresco mattino. Sarà questa la profumazione. Vediamo. Coccolino. Questo non mi piace di più. Aria di primavera. Che nome che danno a questi ammorbidenti. Opla. E poi. Ammo sempre Coccolino. Creation. Profumazione creation. Che corino. Qua è questo bucazzino. Beh, molto bella la bottiglia. Molto bella. Morbida. Quindi hanno usato meno plastica. E questo ci piace. Si, si, si. Ci piace. Ci piace. Poi. Ah, il chinotto. La mia bevanda preferita. Si, che poi la bevono tutti. Infatti, vedete. Questo è della Spumador. E ne ha prese due. E poi. Questo qua è. Vola in Giappone. Vola in Giappone, ragazzi. Allora. Beyoncé. Si, Beyoncé. Beyoncé. Come si dice? Beyoncé. Vabbè. Con argan. Con argan nobile. Oligo minerali termali giapponesi. Vediamo il profumo com'è. Sentiamo. Delicato, eh. Pensavo più forte. Forte, delicato. Sicuramente l'avrà preso mio marito da portare al lavoro. Perché quando si fa la doccia là. E basta. Ah no. C'è ancora qualcosa qui. Ah, la limonata. Limonata. Sempre della stessa marca. Di questo qui. Opla. Vedete? Stessa marca. E... E niente. Latte ce l'avevamo qui. Altro sacchetto. Yogurt a tiglia. Due al mirtillo. Due alla fragole. Due alla ciliegia. E due alla bicocca. Snack per i cuccioli. Patatine. Grigliate. Filadelfia. Senza lattosio. Red Bull. Al cocco. Mozzarella campana. Quindi è una bella... È la bufala questa? Sì, bufala. È la da mettere via. Altre uova. Altre fragole. Il tè della Twins, che è buonissimo. Altra Red Bull. Mozzarella Santa Lucia Light. 50% di grassi, meno di grassi e 30% in meno di calorie. Vediamo. Latte d'avena. Altro Attivia Mix & Go. Con i semi di zucca, mirtilli e muesli. Poi, squacquerone. Pane. Crostata di frutta. Al gusto di frutti di bosco. Il mio marito ce l'ha dato dentro, eh, in sta spesa. Ce l'ha dato dentro. Dolci a go go. Sul giro, eh. Dadi. Grana. Parmigiano reggiano. Sai perché? Si sente così. Altri dolcetti. Eh sì, dolcetti. Altri. Come si chiamano? Insomma, per i cuccioli. Poi, questo cos'è? Asparagi. Budino. Banane. Un casco, praticamente. Spero che si sia visto. Che montagna di Roma. Prosciutto. Svello. Quindi senza grassi. Solo 3% di grassi. E ultimo pezzo. I fagottini con speck. E basta. Abbiamo terminato. Mi sa che questo suat alla spesa è stato velocissimo. Quindi il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un bel like. Iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram. Attivate. No, ho sbagliato questo pollice. Attivate la campanella. Per non perdere nessun altro video. Nuovo video. E noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao.